Abbiamo visto che avete stretto le norme che poi portano alle espulsioni e tra queste ci sono anche quelle per i minori che vengono trattate in realtà un po' in maniera emergenziale, cioè 16-18 anni che poi vanno a confluire in un'accoglienza ordinaria. Le espulsioni sappiamo che non funzionano, i numeri non sono importanti e non abbiamo abbastanza accordi con l'estero, quindi ci chiediamo alla logica di queste misure che sono sempre emergenziali rispetto a quello che avete promesso anche in campagna elettorale, cioè blocco navale e non vi sembra che avete promesso qualcosa che è irrealizzabile? No, preciso innanzitutto che le misure che abbiamo adottato oggi non riguardano l'espellibilità dei minori, è diverso il discorso. Noi oggi abbiamo previsto in via provvisoria, in condizioni determinate, del tutto contingenti, una possibilità di sistemazione e di accoglienza, che poi è la fotografia di quello che facciamo. Solo nel caso in cui la condizione di minorità viene smentita dagli accertamenti genera l'espulsione, ma rimane inespellibile il minore, quindi prima precisazione. Noi per quanto riguarda le espulsioni, il sistema delle espulsioni è un altro dei grandi obiettivi che è stato sempre dichiarato, è una sfida, una scommessa che abbiamo accettato attraverso il programma di realizzazione delle strutture. Gli accordi in alcuni casi già ci sono, anche per alcune nazionalità che sono tra quelle che forniscono, che riguardano una quota particolare di afflussi che arrivano, Tunisia e Egitto per esempio. Quindi ci sono gli accordi, i meccanismi sono complicati. Insomma conciliare la tutela dei diritti delle persone, che comunque noi ci ripromettiamo sempre di salvaguardare, con la prospettiva di esercitare l'affermazione della legge, anche da questo punto di vista, ha una sua complicazione organizzativa, logistica, ma è quello su cui intendiamo comunque portare avanti quelli che sono i nostri obiettivi che abbiamo non solo con questo provvedimento, ma sui quali stiamo lavorando anche per i prossimi mesi.